Sono contenta di ritrovarla nei nostri studi, come dicevo anche in apertura oggi una puntata tutta al femminile per trattare argomenti che ci stanno a cuore. Abbiamo parlato di alimentazione, adesso parliamo di un aspetto importante della nostra vita. Lo facciamo grazie alla dottoressa Erika Di Viesti, psicologa clinica, psicodiagnosta e neuropsicologa clinica e riabilitativa. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno. Allora, cara Erika, ci diamo del tu? Certo. Mi piace immaginare che questo momento di confronto e di intervista davvero nasce per dare delle piccole risposte a chi ci segue. Noi vogliamo partire con una definizione. Partiamo con il definire l'ansia. Mi piacerebbe aggiungere questa sconosciuta, ma purtroppo non è sconosciuta. Questa familiare. Molto familiare. Che cos'è e quali sono? Se ci sono dei fattori scatenanti. Ok, allora, oggi dire che ansia ormai è entrato nel mood di tutti, grandi e piccini. Io sento bambini piccoli che devono andare a scuola, che ansia. Oppure adulti che magari oberati dagli impegni quotidiani. Cosa devo cucinare oggi, che ansia. Devo andare a fare la spesa, che ansia. Devo andare a lavorare, che ansia. Ormai questo che ansia è un termine che fa parte in maniera preponderante delle nostre giornate. Ma questo perché? Perché i tempi sono cambiati. Gli impegni sono cambiati. Il tempo è poco, la gente è frenetica, le cose da fare sono tante, gli orari sono sempre stretti. Quindi effettivamente questa sensazione di pesantezza, di irrequietezza, questo vivere sempre su questo filo del rasoio ci accompagna costantemente. Quindi questo che ansia ormai viene quasi spontaneo, perché si sente anche tanto parlare di questa fantomatica ansia. Però molto spesso l'ansia è usato come termine in maniera erronea, perché poi l'ansia sottende tante emozioni, di cui noi nel qui ed ora non ci rendiamo conto. Cos'è l'ansia, diciamo in maniera più clinica? L'ansia è innanzitutto un'emozione, inside out insegna, che bisogna vivere le emozioni. E l'ansia fa parte finalmente, al giorno d'oggi, del nostro assetto di emozioni. Allora, l'ansia è un'emozione. È un'emozione che ci proietta un po' verso un pensiero futuro. Quindi l'ansia è quella sensazione di paura, angoscia, preoccupazione che ci sale quando noi stiamo pensando a qualcosa che deve accadere molto spesso in maniera negativa. Devo andare a fare l'esame, ok? Ho l'ansia, andrà male. Sono male, mi sento malissimo, disturbi gastrointestinali, tutto quello che ne viene dietro. Perché l'esame andrà male? Ho paura di vivere una relazione, perché potrebbe finire. Questo cosa significa? Che io sono sempre proiettata un passo più lontano da me. Quindi questo cosa ci fa pensare? Che l'ansia che noi viviamo oggi è perché non riusciamo a restare nel qui ed ora. E perché io di quello che sto provando in questo momento, che può essere paura, può essere dolore, può essere tristezza, non ne sono consapevole. Ma sono proiettato verso un disturbo, tra virgolette, emotivo più grande di cui poi non mi saprò mai dare un significato. Perché poi quell'ansia che io provo per questo evento futuro effettivamente non è reale. Perché è un'ansia che io sto costruendo nella mia testa, è una catastrofe che io sto costruendo nella mia testa. Quindi diciamo che questo pensiero ansioso, questo pensiero catastrofico, no? Mi porta a vivere male il presente. Infatti ai tempi d'oggi noi nel presente non ci siamo quasi mai. E le emozioni che richiede il qui ed ora, infatti una cosa anche in terapia, io invito sempre a vivere il qui ed ora, a godere del qui ed ora, del momento, della reale sensazione. Sto preparando un esame, devo concentrarmi sul preparare un esame, non sul fatto che l'esame potrebbe andare male. Quali sono i fattori scatenanti? I fattori scatenanti possono essere stress ambientali. Come abbiamo detto prima, siamo bombardati da stress ambientali, da richieste, da performance, da prestazioni continue. Quindi la persona ansiosa che è di assetto comportamentale è un po' insicura, non è mai all'altezza. Quindi viene spesso colpita da questo ambiente che chiede tanto. Oppure da un'altra causa potrebbero essere gli eventi che mettono veramente a rischio, a repentaglio, la nostra vita, la sopravvivenza. Non dimentichiamoci del periodo del Covid. Quante persone sono uscite, piene d'ansia, dal periodo del Covid? Lì il pericolo era reale e la persona era sempre in questa, si chiama, situazione di alert. Perché? Perché alert è un sistema assolutamente che fa parte delle strutture cerebrali e cognitive. L'alert è quel sistema di allarme che io innesco sempre dentro attraverso l'amigdala. L'amigdala è una mandorlina che io ho nel cervello, che gestisce l'ansia, che sono le emozioni della paura, della preoccupazione e dell'angoscia. Quindi è come se nelle situazioni di pericolo questa mandorlina fosse sempre iperattiva. E quindi io sono sempre in quella sensazione di attacco-fuga che o mi frizza, come dicono i grandi fratelli, il freeze, quindi mi blocco davanti alle situazioni di pericolo e vado in panico, non le so gestire, oppure può diventare un grande potenziale. Quindi prendo il controllo della situazione e imparo a gestire. Ultimo, l'abbiamo già detto prima come fattore scatenante dell'ansia, è questo pensiero futuristico. Questo evento che accadrà nel futuro è sempre, per l'ansioso, in accezione negativa, ovviamente. È molto interessante quello che hai detto, partendo dal fatto che l'ansia è un'emozione. A questo io non ci avevo pensato, ma immagino anche tanti che stanno seguendo. E poi l'importanza di viversi il qui ed ora, perché è vero l'ansia ti proietta sempre a qualcosa che accadrà, che accadrà e sarà negativo, ma non è detto, potrà anche essere positivo nel caso dell'esame, potrò superarlo brillantemente. Allora, sentiamo spesso parlare, non so se è correttamente o meno, di attacco d'ansia e attacco di panico. Sono due situazioni differenti tra di loro o esiste una correlazione, un legame? Allora, sia l'una che l'altra. Sì. Sono correllate tra loro perché chi soffre di attacchi d'ansia molto spesso è più propenso a soffrire anche di attacchi di panico. Però erroneamente vengono usati quasi spesso allo stesso modo. Sto avendo un attacco d'ansia, sto avendo un attacco di panico. Non sono la stessa cosa. A livello sintomatologico sì, perché l'esordio è lo stesso. Il sintomo che io provo nell'attacco d'ansia, il sintomo che provo nell'attacco di panico è identico. Ad esempio chi, e gli ansiosi mi capiranno in questo momento, chi durante un attacco d'ansia o un attacco di panico non ha sentito tachicardia, respiro corto, l'affanno, la sudorazione che aumenta, le palpitazioni, questo senso di vertigini, di sbandamenti. Ecco, queste sono tutte reazioni fisiologiche che è sempre quella mandorlina di cui parlavamo prima, mette in atto in una situazione di pericolo. Quindi questo allarme si scatena attraverso il mio corpo, il mio corpo mi dà questi sintomi e mi sta dicendo che sta succedendo qualcosa. La persona ansiosa che soffre di attacchi d'ansia e di panico ha molte più probabilità che gli sta succedendo qualcosa. Soffia, cioè per dirti un alito di vento, la persona scatta, la persona ansiosa solitamente. Oppure quando sono distratte e qualcuno bussa sulla spalla, vanno subito in panico, ecco, si dice così. Allora, riparlando della sintomatologia, la sintomatologia è identica, è la stessa, l'esordio sintomatologico è lo stesso. Però l'attacco d'ansia ha tre modalità di espressione, sono la lieve, la moderata e la grave. Nella stragrande maggioranza dei casi l'esordio dell'attacco d'ansia è lieve, cioè sono dei sintomi che io sento, un po' di palpitazioni, un po' di respiro corto. L'attacco di panico invece è più dirompente. L'attacco di panico è inficiante. La persona che ha un attacco di panico e che non sa gestirlo, veramente può entrare in situazioni di pericolo e mettersi in situazioni di pericolo. Infatti tante persone che soffrono di attacco di panico, e questo è un altro aggravante dell'attacco di panico, hanno paura che quell'attacco di panico possa ricapitare in situazioni per i fisi sociali. Un viaggio, una vacanza, nella macchina mentre sono alla guida, effettivamente è pericoloso. Per questo diciamo a livello di pericolo, a livello di esordio, l'attacco di panico è un po' più dirompente dell'attacco d'ansia, ma l'intensità è che cambia. La sintomatologia è la stessa, però assolutamente non si può parlare della stessa cosa quando parliamo di attacco d'ansia, di attacco di panico. Molto molto interessante. Ci sono tante altre cose che dobbiamo aggiungere a quello che appunto ci hai spiegato in maniera così chiara ed esaustiva. Erika, allora noi ci fermiamo qualche istante, prendiamo fiato, perché anche andare in onda, anche andare in diretta, mette un po' d'ansia. Quello dico, il filo d'ansia che aiuta però a fare un'ottima prestazione. E linea alla regia. E poi di nuovo insieme, state con noi. Questa mattina grazie alla dottoressa Erika Di Viesti, stiamo parlando di ansia e panico, che cosa sono e come affrontarli. E adesso aggiungiamo una domanda. Perché peggiorano in estate? Nel senso che è molto diffusa, soprattutto in determinati momenti dell'anno. mi viene in mente appunto l'estate o i giorni di festa, l'ansia sociale, dottoressa Di Viesti. Di che si tratta? Allora, innanzitutto il disturbo d'ansia sociale è quel disturbo di cui soffrono le persone che hanno difficoltà ad esporsi a degli stimoli sociali, come gruppi, convivialità, momenti di festa. Perché? Perché c'è da mettere in scena una performance, no? Quindi leggere in pubblico, parlare in pubblico, ad esempio, oppure imbastire delle conversazioni, fare nuove conoscenze. Ci sono persone che non reggono questo carico, perché, come dicevamo prima, c'è quell'insicurezza di base, no? Quindi una persona non si sente all'altezza della situazione, non si sente all'altezza di quel discorso. Molto spesso quando parlo con i miei pazienti mi dicono io non esco più la sera o non partecipo più alle uscite con gli amici, perché molto spesso non so che dire, mi vergogno. Perché molto spesso se mi chiedono di fare qualcosa, penso di non saperla fare. Se dobbiamo fare un gioco, io sono convinto che perderò e che farò una figuraccia. Questa è l'ansia sociale, detta proprio in termini molto spiccioli e pratici, ecco, per capirci. È quell'ansia che avviene quando io devo dare una performance in pubblico. Perché questo? Perché ho paura del giudizio. Io mi vergogno perché ho paura del giudizio dell'altro. Quindi mi sento sempre questi occhi puntati addosso. Come dicevamo prima, io esco fuori dal qui ed ora e entro in un pensiero futuristico catastrofico su cosa penseranno di me? Avrò fatto una brutta figura? Io dico sempre, non poniamoci delle domande a cui non troveremo delle risposte. Cerchiamo di goderci il momento e le emozioni del momento. Farò una figuraccia quando dirò qualcosa? Non fa niente. Non verremo condannati e nessuno ci punterà il dito contro. Ad esempio, come stavamo dicendo prima, ci sono delle situazioni come il Christmas blues. Non so se avete mai sentito parlare del periodo natalizio. Spieghiamolo, spieghiamolo, sì. Esatto, la tristezza natalizia, la depressione natalizia. Ci sono persone che durante il periodo natalizio vanno in panico. Perché? Perché il periodo natalizio è ricco di performance. Cenoni, tombolate, regali, feste aziendali. Quindi le persone sono più esposte a questi stimoli sociali. E la persona ansiosa che soffre di ansia sociale si sente male al solo confronto con gli altri, al solo pensare di dover avere a che fare con l'altro. Quindi questa paura del giudizio, questa ridondanza, questo terrore, questo abbassamento dell'umore, questa tristezza sono fisiologici in momenti in cui ci troviamo in situazioni di convivialità e una persona non si sente semplicemente all'altezza. Però questo a cosa porta? Porta anche all'isolamento, all'evitamento e quindi a una chiusura da parte della persona che soffre di disturbi di ansia sociale. In periodi appunto di grande esposizione sociale. Anche l'estate, ci sono eventi, ci sono momenti conviviali. Quindi le persone durante l'estate, già il clima non aiuta, ecco, le persone ansiose. Poi gli eventi e il disturbo d'ansia sociale peggiorano le situazioni, quindi le persone tendono a chiudersi ancora di più in loro stesse. E quindi l'estate, diciamo, è un momento, così come il Natale, che non piace per niente, non è preferito dagli ansiosi. Molti infatti dicono che bello arrivano le feste di Natale oppure che bello arriva l'estate, però poi devi fare i conti con quella che è la realtà. Esattamente, è quello che richiedono le feste, è quello che ci chiede la festa, perché noi non siamo abituati a vivere la festa in maniera leggera. O l'evento in maniera leggera. Dovremmo imparare a vivere le cose con più leggerezza. Io dico sempre che bisognerebbe vivere con i piedi ben piantati sulle nuvole. Cioè, un po' più su della terra, però sempre con il pavimento a terra. Bella, sì, questa è anche una delle mie frasi preferite. Parlavamo appunto dell'estate, ma il caldo può aumentare l'ansia? Il caldo come sensazione in questi giorni? Certo, certamente. Il caldo non è la stagione preferita dagli ansiosi. Perché, se ci pensiamo bene, a livello di ragionamento molto logico, il caldo stimola quei sintomi che sono tipico dell'ansioso. L'affanno, il respiro più corto, la pressione bassa, i disturbi del sonno, quindi l'insonnia perché l'afa non ci fa dormire. In questi giorni siamo molto pratici, dia, fa notturna, ecco, queste cose qua. Quindi l'ansioso li percepisce come sintomi, però io sono qui per dire che bisogna stare un po' più tranquilli perché sono solo fastidi. Quindi dobbiamo distinguere il fastidio dal sintomo. La persona che non soffre d'ansia sa che sta sudando, è aumentata la sudorazione, è aumentato il respiro corto, ha la pressione bassa, la sensazione di vertigini, perché fa caldo. Quindi lo riconduce effettivamente a un evento stagionale. L'ansioso invece pensa, sto per morire? Sta per succedere qualcosa? Infatti, in maniera molto umoristica, quando parlo con i miei pazienti ansiosi, e se mi seguono lo sanno, io dico sempre, ma voi l'oculo ancora non l'avete connotato? Cioè, è tutto bene? O dobbiamo, se volete. Perché c'è sempre questo pericolo? Benissimo, perché poi lo humor è sempre la carta giusta. È un po' quella terapia ad urto, disinnesca la tensione. Dovremmo essere un po' più leggeri, un po' più umoristici su determinate cose, e anche un po' più comprensivi, perché c'è anche chi non prende seriamente il disturbo d'ansia. Il disturbo d'ansia, invece, è veramente inficiante. È veramente un disturbo che condiziona la vita delle persone, soprattutto se sfoci in attacco di panico. E tanti non lo capiscono. Tornando al discorso estivo, come stavamo dicendo prima, pressione bassa, insonnia, sudorazione, tachicardia, pulsazioni accelerate, sono sintomi tipici dell'ansioso, ma fastidi normalissimi in una situazione di caldo. Mi piace quello che hai detto, nel senso che comunque leggerezza, adesso dobbiamo vivere con un po' di leggerezza, però comprensione, quindi non sminuire determinate situazioni. Esatto, perché leggerezza e superficialità sono differenti. Un conto è la superficialità, e un conto è la leggerezza. La leggerezza è dare importanza alle situazioni, ma non in maniera pesante, troppo apprensiva. La superficialità, invece, è bypassare delle situazioni, oppure accantonarle, oppure, no, non mi interessa niente, oppure non prenderle seriamente. Molte persone, nei confronti di queste disturbi d'ansia, sono superficiali, invece dovrebbero essere semplicemente leggere, quindi aiutare, ma con la giusta comprensione. Ottimo. Allora, in conclusione, prendiamo la cassetta degli attrezzi che tu hai portato. È invisibile, ma c'è. Sì, 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 quella c'è sempre. Quella c'è sempre. I metodi per gestire l'ansia, qualche consiglio, qualche istruzione per l'uso. Ok. Allora, innanzitutto, la consapevolezza. Io devo essere consapevole di quello che ho per sapere come devo affrontarlo. Quindi, se io soffro di disturbo d'ansia, se io soffro di attacchi di panico, non devo pretendere di farcela da solo. Oppure, non devo pretendere di essere forte, perché mi dicono, devi essere forte, bisogna essere più forti. No, non è quello. Io devo essere consapevole e dire a me stesso, ho un problema, o un qualcosa che mi sta ostacolando, la quotidianità. Quindi, devo vedere come devo fare. Quindi, consapevolezza, primo step. Secondo step, una buona terapia. Funziona tanto la cognitivo comportamentale o la cognitiva, ad esempio, scientificamente provata. È una terapia, la cognitivo comportamentale, che aiuta tanto con l'ansia, con il disturbo d'ansia e gli attacchi di panico, perché va ad agire proprio a livello di strutture cerebrali. Ok. Poi ci sono alcune tecniche, come il training autogeno, tecniche di respirazione, perché l'ansiosa è sempre in apnea. Non respira, non sa respirare. Li senti che sono proprio affaticati, sempre. Tecniche di meditazione, la mindfulness, che possono essere di gruppo o anche singole. Queste sono tutte tecniche che vanno ad attivare un meccanismo mio-rilassante sulle strutture cerebrali, oltre a darti gli strumenti adatti per imparare a respirare, va ad agire proprio sul nostro sistema nervoso. Quindi che cosa fa? Abbassa la tensione e in automatico solleva il pensiero positivo. Quindi da quell'idea catastrofica che io ho nel futuro, imparo a rimanere nel qui ed ora, per una stimolazione sensoriale, perché il qui ed ora è fatto di sensi. Io mi dimentico come devo respirare, mi dimentico se sono calda, se sono fredda, che temperatura c'è, perché mi perdo. Mi perdo in un'atmosfera che non è quella reale, ma che è quella ansiosa. Queste sono tutte tecniche che vanno a stimolare il pensiero positivo. Quindi sono tecniche che io consiglio sempre, che pratico sempre, quando si tratta di un disturbo d'ansia. In ultimo, importantissimo, è capire che l'ansia non è la nostra piacere ma nemica. L'ansia è una grande alleata. L'ansia è una grande alleata perché l'ansia è un meccanismo adattivo, assolutamente normale delle persone. Io se vado in ansia e so usare l'ansia, funziono meglio. Io faccio sempre l'esempio del trampolino di lancio. Un nuotatore, prendiamo un nuotatore, una persona che deve andare a fare l'esame, si prepara, quindi sa perfettamente quello che deve fare. Il nuotatore saprà fare un tuffo. Il nuotatore va sul trampolino. L'ansia è quel trampolino. È il trampolino di lancio per una perfetta performance. Se io sono ansioso, mi fermerò sul trampolino e perderò sicurezza in quello che io so fare. Altrimenti se io deciderò di tuffarmi, consapevole che io so tuffarmi, farò il tuffo più bello della mia vita. E quindi l'ansia è il mio trampolino di lancio, è il mio potenziale. L'ansia da prestazione fa parte dei migliori leader. L'ansia da prestazione fa parte delle migliori performance. Quindi noi abbiamo una concezione un po' sbagliata dell'ansia. La vediamo come la possiamo usare anche, come qualcosa che ci blocca, come dicevo prima. Oppure possiamo utilizzarla come il nostro più grande potenziale. Che meraviglia, questo era l'augurio più bello che tu potessi fare agli amici che ci seguono. Quindi poter utilizzare l'ansia come trampolino per le migliori performance della propria vita. Io già so che ci ritroveremo. Metà dicembre? Dobbiamo parlare. Christmas blues. Christmas blues dove dobbiamo parlare. Ovviamente, ovviamente. Sei optata, sei prenotata. Con piacere, sempre. Una protagonista di questi giorni, di queste settimane in Italia e anche in America è l'ansia nel cartone animato della Pixar Inside Out 2. Ti consiglio, ti do questo consiglio. Devo andarla a vedere, io ancora non l'ho vista. Immagino che i tuoi pazienti ti abbiano già detto. Sì, mi hanno già detto trama, finale, tutto. Però vai perché... Però la frase caratteristica è data, parlava di me, parlava di metto perché c'era l'ansia. C'è l'ansia quindi comunque... Parla un po' di tutti ecco. Parla di noi, parla di noi. Grazie per la tua presenza, il tuo aiuto e la tua competenza. Grazie alla dottoressa Erika Diviesti per essere stata con noi quest'oggi. Linea alla regia, brevissima pausa e poi torneremo insieme con le ultime notizie. State con noi.